Gravissimo incidente stradale ieri sera lungo la tangenziale a Padova a perdere la vita Ivano Calore, 59 anni di Selvazzano, morto sul colpo dopo che la sua moto ha sbandato scivolando sull'asfalto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 in corso Australia vicino a Curva Boston, notevoli i disagi al traffico anche per la chiusura del tratto interessato dal grave sinistro. Stando a una prima ricostruzione fornita dalla polizia locale intervenuta sul posto, il centauro avrebbe perso il controllo della BMW di grossa cilindrata su cui viaggiava, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Inutili tutte le manovre di primo soccorso che gli hanno praticato anche alcuni automobilisti. I sanitari, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.